Ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video. Come promesso realizzerò il secondo video su una sfilatura a forma di croce con una difficoltà leggermente superiore rispetto alla sfilatura creata nel video precedente. Lavorerò sempre su uno scampolo di lino a trama sottile e come potete vedere mi sono già portata avanti con la preparazione del tessuto quindi sono andata già a sfilare delle trame a forma di croce e per arrivare a questo punto vi lascio il link del video precedente perché i passaggi sono identici quindi per arrivare a questo punto della lavorazione potete andare a guardare passaggi realizzati nell'altro video ed ottenere questo risultato. La differenza tra la croce semplice e la lavorazione che vedremo in questo video consiste nel fatto che andremo ad aggiungere un'ulteriore sfilatura per la lavorazione del punto quadro e lo faremo tutto intorno alla nostra croce quindi partiamo sempre dalla sfilatura di base della croce e poi andiamo a fare quella lungo tutto il perimetro per il punto quadro e lo facciamo sempre sul retro del tessuto come potete vedere ho lasciato anche una parte delle trame che poi andrò a lavorare e a fissare nel punto cordoncino e ora per realizzare la sfilatura del punto quadro dobbiamo contare le trame da questa sfilatura verso l'esterno io lavorerò 6 trame cioè lascerò 6 trame e poi ne sfilerò 2 quindi vado a contare praticamente 6 trame in questo modo parto dalla parte inferiore destra quindi 1 2 3 4 5 e 6 6 trame quindi verso la mia destra e poi 6 trame verso il basso perché comunque io devo lasciare questo angolino per la lavorazione del punto quadro quindi 1 2 3 4 5 e 6 ecco qui quindi da questo punto in poi andrò praticamente a tagliare delle trame sia in in orizzontale che in verticale per la lavorazione del mio punto quadro quindi mi aiuto con l'ago prendo la trama la settima trama praticamente la tiro un pochino per facilitare il taglio e taglio quindi posso sfilare questa trama e la sfilo praticamente solo dalla settima trama in poi quindi da sinistra verso destra lasciando questa parte non vado a sfilare questa parte di trama e ne taglio ancora un'altra faccio la stessa procedura ecco qua quindi ho le mie due trame e le sfilo fino alla lunghezza del sfilo natura a forma di croce ecco qui quindi questa parte la utilizzerò per lavorare il punto quadro e ora vado a fare la stessa identica cosa in quest'altro senso quindi in verticale lascio quindi le sei trame una due cinque e sei e prendo la settima e l'ottava la sposto un po' con l'ago e taglio e vado a sfilare come potete vedere mi fermo esattamente dove finisce anche la sfilatura a forma di croce e l'angolo resterà in questo modo quindi ci permetterà la lavorazione del punto quadro ora andiamo a realizzare quest'operazione su tutti e quattro i lati quindi continuiamo su tutte e quattro i lati realizzate le sfilature lungo tutto il perimetro della nostra croce il tessuto si presenterà in questo modo chiaramente sul retro e ora siamo pronti per iniziare la lavorazione del punto quadro sul diritto del lavoro quindi vado a capovolgere iniziamo la lavorazione del punto quadro l'unica accortezza che bisogna fare per questa lavorazione è di iniziare con il punto quadro nella parte interna cioè in una qualsiasi parte interna quindi può essere quest'angolo questo questo oppure questo dove preferite e lavorare da destra verso sinistra quindi io ad esempio partirò in quest'angolo vado ad inserirmi con lago il filato faccio qualche punto giusto per mantenere un po di di filato che poi andrò a fissare successivamente come faccio di solito qui e vado appunto a lavorare da destra verso sinistra prendendo le mie sei trame quindi esco in questo punto si prendono sei trame sia in orizzontale che in verticale inizia a lavorare il punto quadro quindi primo punto secondo passaggio vado praticamente ad avvolgere la parte superiore delle trame ed esco con lago in nell'angolo in basso a sinistra vi metterò anche il link del punto quadro così potete andare a vedere la singola lavorazione e poi faccio un ulteriore passaggio in questo modo e continuo quindi punto verso l'alto rindo sei trame punto obliquo verso il basso e continuo perché bisogna partire esattamente nella parte centrale della sfilatura e non nell'estremità perché la sfilatura che poi andremo a realizzare lungo la croce ha bisogno di un determinato numero di colonnine quindi un numero specifico di colonnine in base alla sfilatura che dovete realizzare io realizzerò una sfilatura a tre colonnine quindi le mie colonne divise dal punto quadro devono essere un numero multiplo di tre però chiaramente questo è molto soggettivo dipende dal tipo di sfilatura che dovete realizzare se dovete realizzare una sfilatura a due colonnine dovrà essere un numero pari quindi andiamo avanti e quando arriviamo a questo punto vado a verificare se le colonnine sono giuste per la mia sfilatura lavorati tutti i punti quadro prima di andare a chiudere vado a verificare che il numero di colonnine realizzate è sufficiente alla realizzazione poi della mia sfilatura come dicevo io realizzerò una sfilatura a tre colonnine quindi vado a verificare se le mie colonnine sono sufficienti alla sfilatura quindi considero una, due e tre 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 quindi sì le mie colonnine bastano per la realizzazione della sfilatura questo conteggio fatelo sempre in base alla sfilatura che decidete di realizzare quindi a questo punto vado a chiudere l'ultimo punto quadro facendo semplicemente un punto verticale dall'alto verso il basso e uscendo nello stesso punto di uscita del filato ecco qui e ora per passare da quest'altro lato per lavorare quest'altro punto quadro devo prima lavorare questa parte quindi vado a rifinire la sfilatura e lo faccio sempre a punto cordoncino quindi mi inserisco, mi sposto di una trama in questo modo quindi vado ad inserirmi nella trama immediatamente successiva e punto l'ago al di sotto di altre massimo 5-6 trame qui e inizio a lavorare il punto cordoncino quindi lavoro trama per trama per rifinire la mia sfilatura tutto sul diritto del lavoro e inserendo quindi anche le trame che sono rimaste sul retro del tessuto e poi andremo a tagliare l'eccedenza come abbiamo fatto nel video precedente quando avete ultimato la lavorazione del punto cordoncino all'estremità della sfilatura se avete altro filato a vostra disposizione come nel mio caso potete continuare direttamente con la lavorazione del punto quadro altrimenti andate ad aggiungerlo sul retro del tessuto e continuate con la lavorazione del punto quadro quindi capovolgiamo e ora vado ad inserirmi nel tessuto ed esco nell'angolo inferiore destro per ripartire con il mio punto quadro e continuo nello stesso modo prendendo le sei trame che vanno a formare la mia colonnina continuando a lavorare il punto quadro giungiamo nell'altro angolo della nostra sfilatura a forma di croce e quindi andiamo a fare l'ultimo punto quadro della fila e ruotiamo il tessuto e ci spostiamo nell'altra direzione quindi in questo caso andiamo a fare il punto prendendoli sei trame e qui dobbiamo fare un pochino di attenzione quindi andiamo ad inserire il filato nel retro ruotiamo il tessuto e quindi continuiamo la lavorazione del punto quadro in questa direzione però abbiamo già una parte di punto quadro realizzato quindi dal retro del tessuto andremo a correggere questa parte poi continueremo con gli altri punti quindi ora esco in questo punto e vado praticamente ad avvolgere queste trame e ora ho concluso l'ultimo punto quadro dell'altra fila ora dobbiamo pensare a questo punto quadro e ora vado a prendere le altre trame per realizzare le altre colonnine e quindi andare avanti in questo senso quindi nell'angolo faccio dei passaggi di punto quadro leggermente diversi vado a correggere appunto il cambio di direzione e ora continuo sempre nello stesso modo quindi come potete vedere ricamo in senso anti orario rispetto alla sfilatura e ora vado avanti lungo tutto il perimetro quindi man mano che trovo l'estremità va da lavorare il punto cordoncino laddove invece c'è il punto quadro da ricamare ricamo il punto quadro appunto vado avanti e ci vediamo al lavoro terminato rifinito tutto il perimetro della nostra sfilatura forma di croce quindi lavorando il punto quadro e il punto cordoncino nelle estremità vado a fissare il filato questo è il pezzettino che ho lasciato all'inizio del lavoro però chiaramente questa è la procedura che ho fatto ogni volta che è finito il filato e ho dovuto aggiungere quello nuovo quindi vado sul retro del tessuto vado a sfilare quei punti che avevo fatto per fissare il filato e vado ad inserirlo praticamente sotto i punti quadro realizzati è indifferente se da una parte o dall'altra visto che qui su questo lato ho già fissato l'ultima parte del mio filato vado a fissarlo sotto questa parte ecco qui quindi vado ad inserire l'ago sotto i punti quadro realizzati e non faccio altro che sfilare chiaramente lo faccio delicatamente ora l'ultimo step è quello di tagliare tutti i filati e le trame in eccesso e quindi ripulire anche il retro del lavoro ok ripulito tutto il retro del nostro lavoro siamo pronti alla fase conclusiva e quindi alla lavorazione della sfilatura e dell'angolo come dicevo io ho scelto la sfilatura a tre colonnine questa tipologia di sfilatura si lavora sul rovescio quindi non capovolgo il lavoro ma resto sempre sul retro del tessuto vado ad inserire l'ago con il filato in questa parte quindi in questo punto cordoncino e mi porto giusto alla metà della larghezza della mia sfilatura per poter lavorare le varie colonnine quindi ho posizionato il tessuto sul telaio e ho inserito il filato sotto il punto cordoncino sono uscita giusto a metà della mia altezza della sfilatura e ora sono pronta alla lavorazione della sfilatura appunto quindi come dicevo lavorerò una sfilatura a tre colonnine semplicemente in questo modo sposto il filato verso la mia sinistra mi aiuto con il pollice della mano sinistra mi inserisco con la crona dell'ago nell'angolo in alto a sinistra passo sotto tre colonnine in questo modo ed esco nell'angolo inferiore destro vado a sfilare però mi assicuro che il filato faccia una sorta di cappietto in questo modo quindi quando vado a tirare praticamente io andrò a raggruppare le mie tre colonnine ecco qua chiaramente anche di questa sfilatura ho fatto un singolo video quindi vi metto il link e potrete consultare la singola sfilatura e continuo a questo punto mi porto dall'altra parte e continuo la sfilatura nell'altra parte della mia croce l'unica accortezza è che qui bisogna tenere il prima di annodare le colonnine bisogna tenere il filato un po più tirato proprio perché c'è questo vuoto dell'angolo che andremo a lavorare successivamente andiamo a sistemare ecco qui e continuiamo giunti all'altra estremità della mia sfilatura vado a fissare il filato sotto gli altri punti cordoncino taglio l'estremità di filato in eccesso ok vado a fare la stessa identica operazione anche su quest'altro lato qui quindi vado a ruotare nuovamente il tessuto ora passiamo dall'altra parte della sfilatura questa volta però facciamo passare il filato al centro del filato che abbiamo lanciato nella lavorazione precedente qui e continuiamo fino all'altra estremità ci aiutiamo sempre anche con la mano sinistra a tenere un po tirato il filato qui e andiamo avanti e non ci resta che fissare il filato anche da quest'altra parte a questo punto la lavorazione della sfilatura è ultimata non ci resta che lavorare l'angolo e anche in questo caso è facoltativo quindi sta a voi decidere quale tipologia di angolo volete realizzare e ora vado a lavorare l'angolo in modo molto semplice come ho fatto nel video dell'altra volta partendo dall'angolo inferiore sinistro quindi sono andata ad inserire il filato nell'angolo inferiore sinistro da questo punto vado ad inserirmi al centro dei due filati e faccio un punto lanciato verso l'angolo destro in alto ecco qui ora vado a passare il filato sul retro del tessuto praticamente lo vado a fissare sotto questa parte lo fisso di nuovo in corrispondenza di quest'angolo e vado a fare un altro punto lanciato quindi esco nell'angolo superiore sinistro mi inserisco nei filati nella parte centrale e faccio un punto lanciato verso l'angolo inferiore destro vado sul retro del tessuto e vado a fissare il filato poi chiaramente potete aggiungere le lavorazioni che volete questa è soltanto una versione base vado sul retro fisso il filato e tolgo il tessuto dal telaio ed ecco la nostra sfilatura forma di croce ultimata quindi come potete vedere rispetto alla croce mostrata nel video precedente è leggermente più elaborata ho scelto una tipologia di sfilature leggermente diversa quindi anche il risultato finale è diverso fatemi sapere nei commenti quale delle due versioni mi piace e come al solito vi saluto e vi do appuntamento al prossimo tutorial ciao